Alcoa, lavoratori e sindacati oggi a Roma, destinazione Ministero dello Sviluppo Economico, le segreterie regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali sono state convocate per le 15 dal Ministro Guidi, all'incontro anche il Presidente Francesco Pigliaru. Carbonia, il PD espelle tre consiglieri, Ignazio Cucu, Luisa Poggi e Francesco Cicilloni sono stati estromessi dal partito. La decisione è stata presa dalla Commissione Garanzia Provinciale, pur gestaliniane, ha commentato il Presidente del Consiglio Comunale. Carlo Forte picchia la moglie, arrestato un 35enne, un meccanico è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A lanciare la richiesta di aiuto è stata la moglie, non è il primo episodio di violenza. Carbonia riapre al traffico il ponte di Barbusi sulla strada provinciale numero 2. Il ponte era stato chiuso nel 2013 a causa del cedimento di un pannello in cemento armato su una parete dell'infrastruttura. I lavori sono costati alla provincia circa un milione di euro. Lavoratori e sindacati dell'Alcoa oggi a Roma, destinazione Ministero dello Sviluppo Economico. Le segreterie regionali e nazionali di FIM, CISL, FIOM, CGL, WILM, UIL e UGL sono state convocate per le 15 dal Ministro Federica Guidi. All'incontro sul regime di essenzialità elettrica in Sardegna parteciperà anche il Presidente della Giunta regionale, Francesco Pigliaru. Sul posto Manolo Muredu, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Sentiamo. Manolo, i lavoratori Alcoa oggi sono a Roma per l'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico. Siete praticamente arrivati sotto la sede del Ministero. Che cosa succederà? Per le ore 15 è previsto un incontro con il Ministro Guidi per fare il punto sullo stato dell'arte e dell'avvertenza per acquisire le notizie inerenti. L'incontro che si è tenuto la settimana scorsa tra lo stesso Ministero e la multinazionale Glencore, potenziale acquirente del sito Exalcoa di Portovesme. Saremo lì anche per capire quali sono gli strumenti di riequilibrio energetico che l'Unione Europea ha concesso per lo stabilimento di Portovesme. Perché le indiscrizioni, le notizie che sono arrivate finora, parlano di due anni più uno per quanto riguarda la durata di questi strumenti che sono totalmente insufficienti per far sì che Glencore possa acquisire... Ecco, la notizia dei due anni è stata confermata, se non sbaglio. Come intendete a questo punto mettere con le spalle al muro il Governo? La richiesta che abbiamo già fatto al Governo e che continuiamo a fare è quella di affiancare allo strumento della superintrompibilità di due anni più uno un altro strumento che possa permettere un prolungamento delle tali energetiche riequilibrate. E in particolar modo, in uno specifico, lo strumento potrebbe essere quello dell'interconnector, l'interconnessione fisica che permette, senza previo parere dell'Unione Europea, di poter avere le tali agevolate, quindi di costruire una vera e propria infrastruttura fisica che possa permettere di collegare il confine italiano, ad esempio, con quello francese, di poter acquistare la corrente al di fuori dei confini nazionali. L'approvazione di questa ipotesi sarà tutta in capo al Governo e alla Glencore. Pensate che i due soggetti interessati potrebbero essere intenzionati a percorrere questa strada? La Glencore già un anno fa rifiutò ogni ipotesi inerente a questo strumento e perseguì la strada della superintrompibilità che già utilizza per il proprio stabilimento dell'apporto mercadelle. Ora vedremo se, vista le mutate condizioni in ambito europeo e politico nazionale, vedremo se cambia l'idea. Metterete in campo una mobilitazione forte? Assolutamente sì, anche perché siamo qui a rappresentare gli interessi dei lavoratori, ma sicuramente gli interessi anche di tutto il territorio, perché il COA è una parte fondamentale dell'economia del successo iglesiente e deve essere assolutamente riavviata per investire la tendenza negativa economica che purtroppo stiamo subendo a tutti i livelli con il depotenziamento del polo industriale. E parliamo ancora di vertenze industriali. I lavoratori dell'Euralumina e la RSU si sono dati un nuovo appuntamento questa mattina sotto la sede dell'assessorato regionale all'ambiente per il 17esimo sit-in al fine di monitorare le battute conclusive del percorso autorizzativo. C'è attesa, fanno sapere i lavoratori, per la conferenza dei servizi che dovrà assolutamente svolgersi tra il 29 ed il 30 dicembre prossimi. Tra pochi giorni, insomma, l'iter istruttorio dovrà concludersi e la decisione dovrà essere definitivamente presa. Auspichiamo, sottolineano i rappresentanti dei lavoratori, non emergano nuove criticità che dilaterebbero ulteriormente i tempi con le gravi conseguenze per l'attuazione del progetto che queste comporterebbero. E con la lettera aperta pubblicata sul proprio profilo Facebook dal titolo Purghe Staliniane che il presidente del Consiglio Comunale di Carbonia, Ignazio Cucu, esprime il proprio rammarico per l'espulsione dal Partito Democratico. Stessa misura ha raggiunto anche i consiglieri Luisa Poggi e Francesco Cicilloni. Sentiamo le interviste a cura di Francesca Arrius. E con la lettera aperta pubblicata sul proprio profilo Facebook dal titolo Purghe Staliniane che il presidente del Consiglio Comunale di Carbonia, Ignazio Cucu, esprime tutto il proprio rammarico per l'espulsione dal Partito Democratico decretata dalla Commissione Provinciale di Garanzia del Partito. Misura questa che ha raggiunto, oltre Cucu, anche i consiglieri Luisa Poggi e Francesco Cicilloni. Siamo allo Stalin re di vivo. Dopo tanti anni qui nel Sulcis abbiamo qualche emulo di Josef Stalin che con i suoi nemici interni, quando non voleva rispondere, o li cacciava via o li faceva fucilare. Noi non possiamo essere fucilati ma non ci facciamo neanche mettere il bavaglio da nessuno e continueremo a fare la nostra battaglia. Motivo dell'espulsione, secondo Ignazio Cucu, sarebbero le domande rivolte ripetutamente all'Aggiunta circa il funzionamento e l'operato della società di Vizia, in particolare in merito all'acquisto e l'utilizzo dei mezzi da lavoro. Ma data l'estrema decisione della Commissione, viene quasi da pensare che ci possano essere altre motivazioni a monte. Intanto la Commissione di Garanzia ha deciso con voti 3 contro 2 ed è stato determinante il voto di un amico di un amico. Tanto per capirci, stiamo parlando di amministratori che hanno voluto fortemente questa cosa. Poi non è vero, queste domande sono rimaste senza risposta perché quando noi affermiamo e lo affermiamo con nettezza perché abbiamo i documenti che sono stati usati tantissimi mezzi vecchi, vogliamo sapere se questi mezzi sono stati pagati anche con l'ammortamento. E questo nessuno ce l'ha mai spiegato. perché se così fosse, evidentemente i cittadini hanno pagato molto di più del dovuto sulla tariffa di raccolta dei rifiuti. E poi c'è l'altra cosa dell'uso dei mezzi in altri comuni che peraltro avrebbero dovuto usare mezzi al loro uso esclusivo. Invece quelli di carbone sono andati anche in altri posti. e vorremmo sapere chi li ha pagati questi mezzi. Se abbiamo pagato il servizio per gli altri oppure se invece questi mezzi sono stati pagati più volte. Ho una visione politica molto diversa da quella di certi amministratori e di certi piccoli dirigenti locali perché non condivido quasi nulla del renzismo imperante anche a livelli locali. Quindi vi hanno fatto un favore? A favore non ce l'hanno fatto, certo che no perché io volevo continuare la battaglia all'interno del partito ma se il partito è questo, se il partito è quello del sindaco così come lui ha detto in Consiglio Comunale il PD sono io, allora se lo tenga pure questo PD perché non mi rappresenta e non rappresenta secondo me neanche gli interessi generali della città. Ramarico per la decisione assunta condiviso anche dalla consigliera Luisa Poggi che dopo 20 anni di militanza all'interno del partito è stata estromessa. La commissione di garanzia a maggioranza, questo va detto per chiarire, a maggioranza ha deciso la mia espulsione e quella di altri due consiglieri comunali. Il ramarico è che insieme a me hanno, come dire, espulso dal partito quelle persone, quasi 300, che avevano riposto la loro fiducia nei miei confronti perché io in Consiglio Comunale non ci sono andata di mia sponte ci sono andata perché è eletta nelle file del Partito Democratico che non è certo quel partito al quale avevo aderito e che non sta rispettando il mandato datogli dagli elettori non lo sta rispettando a livello nazionale e non lo sta rispettando neanche a livello locale. Ecco, sappiamo che a breve ci saranno le elezioni comunali a Carbonia come intende comportarsi? Si ricandiderà, appoggerà una lista, appoggerà un altro partito? Guardi, noi a seguito della sospensione dal gruppo del Partito Democratico abbiamo costituito ovviamente un nuovo gruppo che si chiama Carbonian Rinasce e penso proprio che ci ripresenteremo con quella lista. E passiamo adesso alla cronaca ha picchiato la moglie in preda ai fumi dell'alcol è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia Antonio Mura, meccanico di 35 anni il fatto è avvenuto a Carloforte i carabinieri hanno ricevuto una richiesta d'aiuto da parte della donna che al telefono ha dichiarato di aver avuto una discussione col marito e di essere stata picchiata davanti alla discoteca Marlin la vittima ha anche dichiarato ai carabinieri che non era il primo episodio di violenza i militari giunti nell'abitazione hanno trovato il 35enne che dormiva lo hanno svegliato e portato in caserma dove è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia percosse, ingiurie e minacce è stato riaperto oggi dopo vari ritardi e rinvi il ponte di Barbusi sulla strada provinciale 2 all'ingresso di Carbonia il tratto stradale era stato chiuso dal mese di novembre del 2013 a causa del distacco di un pannello di cemento armato su una parete del ponte i lavori di messa in sicurezza hanno creato gravi disagi alla circolazione poiché il transito era consentito in uscita da Carbonia verso Villa Massargia mentre in ingresso il traffico veniva deviato verso Genna e Corriga o verso Iglesias i lavori sono costati alla provincia oltre un milione di euro principio di incendio durante le normali operazioni di esercizio dell'unità produttiva dell'Enel sul Cist2 a Porto Scuso le fiamme hanno riguardato gli impianti di trasporto delle biomasse verso la Fornace l'incendio è stato spento grazie all'azione congiunta dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza interna della centrale con limitati effetti fanno sapere dall'Enel sulle componenti di impianto e senza alcun danno alle persone che stavano operando via libera alla Camera da un ordine del giorno del PD che impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare misure anche di natura finanziaria che possano garantire al sistema sanitario sardo di fronteggiare gli elevati costi della cura della sclerosi multipla il documento era stato presentato dai deputati Rumina Mura ed Emanuele Cani questa patologia colpisce in particolare le donne e i più giovani con costi che si aggiungono a quelli per la cura di diabete di tipo 1 tiroiditi e celiachia altre gravi malattie che colpiscono la popolazione sarda molto più che la gran parte del resto del mondo il governo si legge nell'ordine del giorno dovrà adottare provvedimenti e programmi specifici tra gli altri volti ad assicurare una buona qualità della vita alle donne affette da sclerosi multipla visti rilevanti effetti fisici, psicologici, sociali ed economici che caratterizzano la loro esistenza i pazienti ventilati annunciano insieme alle loro famiglie un nuovo sit-in per martedì 29 dicembre alle 10.30 sotto il palazzo regionale di Viale Trento a Cagliari si dice solitamente che è Natale per tutti ma questa volta no, si legge nella nota diffusa dall'associazione Le Rondini non per noi che combattiamo da ormai otto mesi contro un sistema che mette a rischio la nostra vita un sistema che è uno degli scempi messi in atto dal commissario Onnis dell'ASL7 e avvallato da assessore e tutto il sistema politico chiediamo aiuto al presidente Pigliaro affinché risolva definitivamente questa tragica situazione tre vini del Sulcis sono stati premiati da Vite Ais la nuova guida dei vini realizzata dall'associazione italiana Sommelier è presentata a Cagliari le quattro viti sono state assegnate a Barrua 2012 Agricola Punica Carignano del Sulcis Gavino Riserva 2011 Mesa Carignano del Sulcis Superiore Terrebrune 2011 Cantina di Sant'Adi i vini sardi premiati da Vite Ais 2016 sono complessivamente nove sono in mostra presso il centro commerciale le tre finestre di Carbonia le opere del pittore Mauro Scartè du Carboniense che da circa 50 anni ritrae paesaggi, volti, nature morte stralci di vita quotidiana che testimoniano il suo amore per il territorio le opere resteranno esposte nell'atrio del centro commerciale fino al 31 dicembre e proseguiamo con gli appuntamenti sarà inaugurata questa sera alle 17.30 presso la saletta del portico di piazza Roma a Carbonia la personale pittorica Memori di Gian Mario Silesu giovane artista locale il tema centrale della mostra raccoglie l'espressione artistica dei ricordi del pittore Memori resterà aperta dal 22 al 28 dicembre da martedì a lunedì dalle 17.30 alle 20.30 il sabato era domenica dalle 17.30 alle 20.30 domenica 27 dicembre dalle 8.30 si svolgerà la camminata sportiva e nordica a Portopino lungo un itinerario con numerosi tratti costieri in un'area di interesse ambientale e storico il percorso si snoderà per circa 13 chilometri lungo i sentieri e le spiagge della costa per partecipare e avere ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell'associazione organizzatrice ASD Senso Orizzonte all'indirizzo di posta elettronica info.chiocciolasensoorizzonte.it con questa notizia è tutto vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni e adesso vi lascio con le previsioni meteo e con il Tg in sardo Noas in Curzu Previsioni per domani mercoledì 23 dicembre bella giornata vento da est e sud est con intensità di 14 km orari raffiche fino a 20 km orari temperature minime comprese tra 5 e 12 gradi e massime comprese tra 15 e 18 gradi